Ciao ragazzi, nuovo video, guardate chi c'è qua, Walter, anzi Walter, mi sta prendo il pacco e finalmente è arrivato da disegno, mi ha dato la possibilità di poter scegliere alcune stampe con cornici e io mi sono lanciata su cornici belle grandi con stampe belle grandi e adesso guardiamo insieme di cosa si tratta, wow, wow, wow i cornici sono veramente belle, belle, mi piacciono, sembrano di buona qualità ho scelto le cornici uguali e le stampe, adesso le apriamo vediamo le stampe, apri, apro io, apro io, tu riprendi ragazzi, ragazzi, vediamo un po', wow, le stampe sono di qualità, guardate che belle allora praticamente io andrò a mettere, questi qua sono fatti per stare insieme quindi hanno poi un effetto come se si vanno a mimetizzare adesso Walter New, con sorte, mi deve mettere i cornici sono veramente di ottima qualità le stampe, davvero grazie a tutti ecco qua ragazzi, vedete, qui è questa praticamente, queste due piante che si vanno quasi a mimetizzare insieme sono soddisfatissima adesso vi saluto e poi ci vediamo quando le abbiamo posizionate dove ho pensato e premeditato di doverle mettere quindi ci vediamo domani, domani, con la luce del giorno vi faccio vedere bene dove le andrò a mettere ciao 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 Bene ragazzi, io sono contentissima, molto molto soddisfatta. A me piacciono tantissimo questi quadri, li ho scelti io, quindi il disegno mi ha dato un budget da poter spendere sul loro sito e io ho scelto questi due quadri perché me ne sono follemente innamorata, mi piacciono moltissimo. Quando ne pensate, gradite questo genere di quadro? A me piace molto perché è moderno, poi ha questo verde, queste foglie mi danno proprio un senso di freschezza. Adesso io ho anche ordinato dei copi cuscini che vanno a riprendere un po' le foglie, anche se così in realtà non mi dispiace ma è molto in armonia. Quindi ragazze, mancano ancora 13 giorni prima dell'inizio delle vacanze e c'è ancora tempo per poter ordinare le stampe di disegno. Io le trovo molto molto particolari, originali, ce ne è veramente per tutti gli stili. Sono delle stampe che possono dare alla vostra casa un tocco di eleganza e di accoglienza. Quindi se volete utilizzare il mio codice sconto SILVIA-25, che adesso passerà subito in sovrimpressione, potete ottenere il 25% di sconto sui poster tra l'11 e il 13 di dicembre. Il codice non è valido solo per i poster delle collezioni Handpicked, Collaboration e Le Cornici. Quindi ragazze, io vi invito a dare un'occhiata perché hanno delle cose veramente bellissime. Io ho già visto precedentemente altre ragazze che avevano collaborato con questo brand e me ne sono fallimente innamorata. Devo dire che sono stata una mattina, una mattina intera a scegliere. Ero in panna e non sapevo cosa scegliere, credetemi. Quindi ragazze, io adesso ho sistemato la camera, ho cambiato le lenzuola, ho fatto una serie di lavori che comunque devo fare. Ho cambiato il copiletto in vista anche delle feste, comunque ho pensato di cambiare il copiletto e metterlo bianco perché mi dava proprio quel senso di freschezza. Però con questi quadri qua avrei voluto proprio un copiletto bianco. Non vedo ora che arrivano anche i miei copicuscini con le foglie che ho ordinato e arriveranno presto. Come vedete ho cambiato anche le tende. Chi mi segue da tempo conosce molto molto bene queste tende. Queste sono tende che arrivano dalla mia sala. Io le ho volute riutilizzare qua in camera. In realtà le ho puntate con degli spili perché erano un po' lunghe ma adesso le farò presto accorciare dalla sarta. E in più ho messo anche le altre tende di lato. Quindi con un nodino, una da una parte un po' più lunga e una da una parte un po' più corta. A me piacciono tantissimo e devo dire che era parecchio tempo che ho lasciato questa stanza spoglia senza tende. Me ne rendo conto ma tra una cosa e l'altra insomma rimandavo, rimandavo, rimandavo. Ho messo il quadro che avevo là sulla sinistra qua sopra il calorifero in quell'angolo là nella zona letto di Walter. E ho messo l'altro quadro, quello che avevo al posto di questi meravigliosi quadri di disegno, ho messo il mio quadro in verticale in questo angolo. Che insomma non mi dispiace affatto, mi piaceva anche moltissimo. A me piace spesso cambiare, girare, rinnovare e quindi insomma sono assolutamente molto molto soddisfatta. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi mando un super mega bacione e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao! Bene ragazze, questo video è terminato, se vi è piaciuto mettete pure un pollicino in su così aiutate il mio canale a crescere. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come sissi78dl, ogni giorno bene o male posto qualche foto, insomma magari non tutti i giorni ma quasi, e qualche storia, quindi vi aspetto anche su Instagram. Puoi seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, dove posto sempre le foto dei video che pubblico e se ti va metti un pollicino in su. Mi raccomando, se non siete ancora tutti al canale, fatelo. E ricordati, per non perdere i prossimi video, attiva la campanella, così almeno riceverai la notifica quando uscirà un nuovo video. Ciao, alla prossima!